In Italia il 27% dei decessi dei bambini di età inferiore 4 anni avviene a causa del soffocamento e dunque dell'ostruzione delle vie aeree. Ed è proprio in tale contesto che si inserisce l'iniziativa Scuole Sicure, un progetto promosso dall'Ordine delle Professioni Infermeristiche della BAT con l'obiettivo di formare e informare i genitori sulle manovre di disostruzione delle vie aeree e sulla corretta manovra di rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nel lattante. Infermieri esperti della materia hanno così tenuto lezioni teoriche ma anche pratiche all'interno dell'Istituto Comprensivo Don Bosco Manzoni di Andrea. Questo è il terzo anno consecutivo che gratuitamente entriamo nelle scuole grazie diciamo alla sensibilità che queste scuole hanno entriamo nelle scuole per far sì per informare i genitori sulle manovre di disostruzione nel lattante e nel bambino. Ci crediamo tantissimo perché? Perché i bambini passano gran parte della loro vita, della loro giornata o a scuola o in famiglia e quindi capite bene che è importante saper agire immediatamente in attesa che arrivi chiaramente il 118. Per prevenire e scongiurare tragedie i genitori devono adottare piccoli e semplici accorgimenti. Innanzitutto devono stare molto attenti a ciò che danno da mangiare ai bambini, a tutti i giocattolini vari che esistono devono assolutamente eliminarli e poi devono mettere in atto delle semplici manovre affinché il lattante o il bambino risolva il problema della distostruzione delle vie aeree. In pratica noi insegniamo anche a cancellare tutti i luoghi comuni come ad esempio mettere le dita in bocca a un bambino. È pericolosissimo. La prima cosa a fare è non mettere le dita in bocca perché corriamo il rischio di spingere ancora più giù il corpo esterno e quindi di peggiorare ancora la situazione. O prendere un bambino come un coniglio e mettere la testa in giù. No, ci sono delle manovre semplici che possono essere messe in atto senza creare danni al lattante o al bambino ma possono essere risolutive nell'80-90% dei casi. Scuole Sicure è un progetto che è stato ben accolto dall'Istituto Don Bosco Manzoni di Andrea. Il nostro istituto è frequentato da circa 1100 minori alunni dai 3 ai 14 anni e quindi ci sembrava più che mai importante formare e informare i genitori. E devo anche dire che visto il riscontro e quindi la partecipazione moderna delle famiglie abbiamo avuto conferma che era un bisogno formativo che i genitori avevano.